Ciao, io sono Elgazi e questo è il canale di Elgazi. Oggi vediamo insieme letteralmente una pianta con un macete in mano, anzi in mano, una mano robotica. Non è un clickbait e lo vedremo insieme perché ha messo il macete in mano a una pianta. Nel nostro canale trovi tanti contenuti legati a tema creatività, quindi troverai il nostro podcast creativo. Ogni giovedì portiamo un ospite a tema creatività, un visual designer oppure un artista creativo. Quindi ogni giovedì alle 19 il nostro podcast, Elgazi Podcast, su tutte le piattaforme. Troverai sempre questi video a tema creatività come questo. Iscriviti al canale, metti like a questo video così puoi aiutarci a continuare a produrre contenuti. Manda la sigla e vediamo insieme questa pianta killer, una specie di pianta serial killer. David Bowen è un artista creativo che usa l'interazione tra natura e sistemi meccanici per produrre relazioni uniche e creare sculture e installazioni artistiche meravigliose. E utilizza robot, software personalizzati, sensori e data. Alle opere di David ci sono sacchi della spazzatura che praticamente volano come se fossero meduse. In questo caso, in quest'opera, è interessantissimo. E in quest'altro caso ci sono le mosche che ti puntano una pistola addosso. Praticamente sono sensori che riconoscono i movimenti delle mosche per poi muovere la pistola in mano a questo braccio robotico. E appunto, come vi ho detto prima, le piante con il macete in mano. Quindi cose estremamente, estremamente interessanti, oppure spaventose. Ne vale davvero la pena di conoscere il suo lavoro. Quello che permette di muovere la lama gigante è questo braccio meccanico. Ma come lo fa? Come è possibile questa cosa? La cosa interessante è che sono stati impiantati dei sensori per misurare gli impulsi elettrici della pianta vivente. Gli impulsi vengono rilevati da questi sensori messi nelle foglie. Il sistema usa un rosemary pie e i sensori sono stati impiantati nelle foglie. L'intenzione di David era quella di muovere il braccio meccanico usando la pianta come, diciamo, cervello del movimento. Movimenti vengono fatti in maniera casuale, completamente casuale, e gli impulsi elettrici muovono il braccio meccanico con la lama in mano. Questo tipo di arte è molto interessante, è un mix tra tecnologie e idee geniali. Dave per me è stato un'ispirazione, è un'ispirazione, e lo spero che sia stato anche per voi. È molto interessante la sua interazione, se dovete fare anche voi piante con macete o robe simili, è molta attenzione. Non caricate la pistola, ad esempio. Grazie per aver guardato, siamo ogni giovedì con il nostro podcast qui su questo canale, su tutte le piattaforme di podcast, e ogni settimana escono i nostri contenuti a tema creatività. Mi raccomando fatti sentire nei commenti, fatti sentire in generale, scriviti al canale, metti like e fammi sapere che cosa ne pensi di questi contenuti. Guarda tutti i nostri video a tema creatività che trovi in questo canale e noi ci vediamo alla prossima. Bella, ciao, sigla. Ciao.